Open House non è solo un progetto innovativo e inclusivo che offre opportunità di lavoro e supporta i ragazzi nell'acquisire le abilità necessarie per vivere in modo più indipendente, è anche condivisione e convivialità. Dopo il successo dell'estate con l'apertura di Willow, il food truck con il quale sono state servite ottime colazioni e aperitivi sulle colline di Montegiove, una nuova iniziativa ha coinvolto i ragazzi, i volontari, gli amici e quanti sono impegnati in questo progetto. Si tratta di una raccolta fondi a sostegno del progetto della cucina su ruote, nata in collaborazione con una giovane realtà fanese, situata in pieno centro storico, che ha deciso di supportare Open House preparando una cena ricca di prelibatezze. Conoscendo Valentina e Federica, che sono le proprietarie e ideatrici di questo progetto, c'è sorta questa idea di creare un qualcosa insieme, un evento insieme, condividiamo molti valori, il valore della convivialità, il valore della condivisione, insomma della collaborazione, quindi abbiamo deciso di creare questa serata che non sarà solo una serata conviviale ma prima sarà un modo per coinvolgere i ragazzi di Open House nelle nostre cucine e farli cucinare insieme al nostro chef Matteo. Vogliamo ricordare Valeria la data dell'evento e che numero bisogna contattare. Allora la data è il 3 ottobre quindi non mancate dalle 19 a Open House, quindi ci vediamo tutti da loro, il numero di telefono da chiamare è 320 3019849. Un evento creato prima dell'inverno che si propone di coinvolgere sempre di più i ragazzi nella vita quotidiana. Open House è un progetto in continuo fermento, siamo partiti quest'estate con il nostro food truck, con questa prova e avevamo in mente di fermarci fino all'anno prossimo, poi Valeria ci ha chiamato con questa bellissima idea e siamo voluti salire a bordo e quindi ecco si apre un nuovo capitolo che è quello delle collaborazioni con le realtà della città e del territorio che sposano quelli che sono i nostri principi e i nostri valori con i quali ci fa molto piacere collaborare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!